Gli autotrasportatori di Capitanata, ma anche del resto della Puglia, si sono dati appuntamento questa mattina sulla Statale 16, sul tratto Foggia-San Severo, per dire no ai rincari soprattutto del gasolio e di tutto ciò che ruota intorno al mondo dell'autotrasporto. Oggi qui chiedono un intervento drastico da parte del Governo. Sentiamo cosa ci hanno detto ai nostri microfoni. Stiamo facendo questa riunione con tutti i trasportatori di Puglia perché vogliamo chiedere qualcosa al Governo che ci aiuti perché i costi sono diventati insostenibili. Come ha detto il mio collega Enrico, prima ringaro gasolio, ringari adi blu, ringaro pneumatici, costi di gestione dell'azienda, personale autistiche che non si possono trovare. Poi quando li trovi per mantenerli è diventato veramente difficile e si rischia il collasso. Io sono di Ariano Irpino, sono l'amministratore delegato della GA Trasporti. Stiamo in una situazione che non ce la facciamo più perché le aziende ci hanno acconsentito l'aumento, ci hanno dato un po' di aumento sul trasporto quando ha cominciato a aumentare il gasolio e ce l'hanno acconsentito, ce l'hanno dato. Però non possiamo chiedere l'aumento tutte le settimane perché il gasolio aumenta tutte le settimane. Da giugno ad oggi siamo arrivati a 1,73-1,74 il gasolio e quindi per noi è un danno enorme e non ce la facciamo più. Cioè onestamente parlando, se io devo fare un pieno a un camion e mi costa 2.000 euro e non li prendo io quei soldi perché purtroppo camminiamo con prezzi scannati, noi non ce la facciamo più. Io la verità, io venerdì mi sono fermato, lo sciopero, me lo sto facendo da solo, anche se non viene autorizzato, non viene data nessuna possibilità, io mi sono fermato venerdì, ho il camion vuoto a casa e non riparto fin quando non vedo le cose chiare. Per rientrare nei costi a quanto dovrebbe andare al litro? Il gasolio? Ma fino a 1,30-1,40 ci siamo stati dentro, ma a 1,73 deve aumentare ancora perché qualche gestore di qualche distributore dove noi facciamo gasolio mi ha detto che sono arrivate già le comunicazioni che fino a giugno-luglio il gasolio deve arrivare alle stelle, deve oltrepassare abbondantemente i 2 euro. Lei quindi ha fermato il suo camion? Sì, sì, io sto fermo, ho 4 camion, ce l'ho fermi, non riesco più. A fine mese quando vai a pagare il gasolio, abbiamo su 4 camion, abbiamo 3.000-4.000 euro in più, io dove li vado a prendere? Abbiamo un camion nuovo, Euro 6, la di blu è arrivata alle stelle, a 1 euro, Neuro e vende, chi vuole vendere di più, non c'è un sistema di blocco su questi prezzi, ci hanno lasciati così e sfido chiunque a viaggiare con questi cari prezzi aumentati, insostenibili, a fare il trasportatore. E non possiamo trovare autisti perché i giovani non vogliono più prendere le patente, ci vogliono 5.000 euro per prendere B, C, D e C, Q, C. E con gli orari che abbiamo, 15 ore impegnative, l'autista non ci viene più, fanno bene, io dico che fanno bene. E alla manifestazione sulla Statale 16 tra Foggia e San Severo presenti anche alcuni rappresentanti delle istituzioni. Noi abbiamo chiesto come governo, abbiamo chiesto uno scostamento di bilancio proprio per dare un piccolo segnale di presenza del governo, non è tantissimo, però noi abbiamo chiesto almeno che dia, come è successo con il governo Conte 1 e 2, un aiuto a queste persone che comunque ci hanno riportato e sappiamo comunque la problematica nel momento in cui aumenta il trasporto, aumenta il gasolio, aumentano tutti quei costi della filiera, quindi le gomme, anche per poter andare a mangiare, diventa una situazione insostenibile che poi si ripercuote su tutta la popolazione, non è che riguarda solo l'oro. Purtroppo questa è una criticità su cui lo Stato sta cercando di mettere una pezza, però resterà una pezza, il problema è davvero serio e potrebbe peggiorare. Questo è anche il danno ulteriore che ci dovremmo aspettare. Quindi al momento non si sente di rassicurarli? Al momento no, su questo no, non possiamo abbassare questo prezzo che non dipende dall'Italia, poi si sa, il problema è europeo. De Leonardis gli autotrasportatori di Capitanata non ce la fanno più, la regione che può fare? Alla regione può fare molto perché su alcuni problemi potrebbe interviare direttamente, immagino aiutare almeno per quanto riguarda il trasporto dell'autostrada in Puglia a intervenire per dare un sollievo da questo punto di vista, può intervenire anche con le risorse del bilancio autonomo per dare un sollievo da un punto di vista prettamente economico sulle spese per il trasporto, e inoltre può intervenire impegnandosi in maniera chiara a livello nazionale per far sì che alcune accise vengano ridotte, ci sia la possibilità per tutti questo settore che per la nostra economia è trainante, basta pensare per i trasporti dei prodotti agricoli e quant'altro, a dare un sollievo a questa classe che ora è tartassata. Immagino che vista la presenza anche qui di tanti parlamentari 5 Stelle, anche loro che sono al governo nazionale, sia da fare concretamente non solo con le chiacchiere per affrontare questo problema. Tutolo? Sì, sicuramente sulle accise c'è tanto da fare, col bilancio autonomo io credo che sia un pannicello quello che si può dare e ottenere da parte loro, il vero problema è quello che il governo deve prendere coscienza, che c'è un problema serio su una categoria e intervenire, ci sono i margini, hanno praticamente risorse illimitate ormai grazie anche a questo PNRR.